Teatro dove è più difficile farlo, non sale pompose né si pari di velluto rosso. Teatro dove è più scomodo farlo, senza comode poltrone, ma un'arena nella pubblica piazza, quella di un quartiere che chiamiamo appunto difficile, San Donato. Teatro per tutti e con tutti, ad ingresso gratuito grazie alla nona edizione del progetto Cultura dei Legami del teatro immediato. Ideato e portato avanti da Edoardo Oliva, direttore artistico della compagnia e con gli allestimenti scenici di Francesco Vitelli. Il progetto della Cultura dei Legami cerca da sempre di utilizzare l'arte del teatro per comporre le frammentazioni, le fratture del vivere comune. In questo caso è quella tra centro e periferia, ma anche tra abilità e disabilità. Abbiamo questa proposta articolata, c'è il primo spettacolo, un piccolo cuore marsicano, il testo di Vincenzo Mambella. È un testo molto bello perché è molto divertente ma anche toccante. La regia e l'interpretazione della nostra Elena Deritis, una bravissima attrice che sarà accompagnata dal vivo da Sergio Oliva che è quello che nella scorsa stagione ha fatto le famose passeggiate musicali. Facciamo anche la Ida nel nostro spazio e in questo caso ha composto le musiche che saranno eseguite dal vivo. Il secondo appuntamento è la tovaglia di Trilussa, c'è questo attore bravissimo di Roma, Ariele Vincenti, ed è uno spettacolo divertente ma anche questo con grandi densità e profondità, insomma poetiche rispetto al grande poeta Trilussa e di tutto il territorio abruzzese. C'è la piccola, è giovanissima, è bravissima, è bellissima Vittoria Manni. Poi a seguire ci sarà questo laboratorio, il Giardino delle Storie, tutta la rassegna è in collaborazione con l'assessorato della cultura Maria Rita Carota e con l'assessorato delle politiche per la disabilità Nicola Dinizio. E poi abbiamo la collaborazione con diversi uguali, anche l'anno scorso avevamo una collaborazione con loro nella realizzazione dell'opera di Beckett che proseguirà con questo laboratorio di lettura, coinvolgerà anche la scuola media Ugo Foscolo che poi è lì a ridosso del nostro spazio e sarà un laboratorio appunto interizzato a letture animate curato da Roberto Melchiorre, da Silvia Palma e Veronica Pellegrini che sono della nostra compagnia. Troviamo che sia interessante anche in periferia portare qualità e anche cercare di intercettare i segmenti che magari sono più deboli e che restano sempre un po' ai margini.